Assessore Panuntin, oggi la Giunta ha deliberato in merito a una questione molto sensibile, sentita dai cittadini, qual è la sicurezza. Può spiegarci meglio? Sì, oggi abbiamo approvato in via definitiva la delibera che è passata anche all'esame del Cale della competente Commissione Consigliare, come previsto dalla legge 9 2009, delibera con la quale sostanzialmente noi approviamo il programma della sicurezza di quest'anno 2014, programma che vede un finanziamento complessivo di un milione di euro, stanziato in parte con la finanziaria e in parte con la manovra di assestamento di quest'estate e che alla fine prevede che queste risorse vadano al finanziamento di questo programma sulla sicurezza, coordinato dalle prefetture del territorio, che hanno la guida delle forze dell'ordine, diciamo, con la partecipazione delle autonomie locali e degli enti locali di questa Regione, che si vedranno assegnare comunque rispetto ai progetti presentati nei patti territoriali coordinati dalle prefetture, risorse non inferiore ai due terzi delle disponibilità messe a finanziamento. Questo quindi va ad aggiungersi ai protocolli che la Regione ha stipulato con lo Stato per quanto riguarda il comparto sicurezza e safety con i vigili del fuoco? Sì, si aggiunge ai protocolli, peraltro protocolli che sono in fase di rielaborazione e prevediamo di risottoscrivere per un nuovo periodo questi protocolli. Sì, si aggiunge a questo e soprattutto noi riteniamo che rispetto a certe tematiche che riguardano proprio la sensibilità e la sicurezza delle persone, penso al pendolarismo di chi si recca nei nostri territori a commettere reati, soprattutto furti, le bande che la stampa spesso dà conto di ciò che accade nei furti e nelle abitazioni, sistemi per esempio di rilevamento che consentono di realizzare dei varchi sulle direttrici principali per rilevare i mezzi e in questo modo garantire l'azione delle forze dell'ordine e uno degli esempi ce ne sono molti.